ciao a tutti e benvenuti in un altro video ragazzi allora si vlogga un'altra volta vieni stelina passa allora ragazzi che si fa in dove si va e si va a vedere i dog one band i dogone sulla pagina facebook la trovate con il nome di dog one band scritto che sole scritto dogone band ragazzi sto in ritardo pauroso mi amo mi ammazza giuro giuro mi ammazza sono veramente in ritardissimo e c'è di stelina sali non vi fa vedere la macchina mia perché mi fa veramente schifissimo insomma andiamo a vedere i dog one band ragazzi che suonano in un locale che si chiama che storia ok scappo ci vediamo dopo ciao ciao allora ragazzi scusate che vi stavo dicendo mi sono fermata a fare il gas perché altrimenti rimanga a piedi e vi stavo dicendo che stasera si va a vedere i dog one band è praticamente il gruppo di miomo che suonano in un locale chiamato scusate chiamato che storia va bene che alla strassigna è un paesino un po distante da dove si sta noi e buonasera mi farebbe pieno più piacere grazie scusate la signora mi arrabbiamissima perché il gas se l'ho un po' aumentato ma se non gli sta bene voglio dire insomma questi ragazzi si suonano in un in questo locale qui io ho intenzione di farvi vedere farvi conoscere i ragazzi del gruppo e poi vi farò ovviamente vedere tutta la serata loro suonano canzoni molto conosciute sono una cover band molto molto bravi e una banda di pazzi scatenati questa seguita l'aria per il prezzo ma via ragazzuoli ci vediamo dopo ciao un bacio ciao Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.